Una petizione per spostare il maxicasco di Valentino Rossi da piazzale d'annunzio. A proporla sul portale dedicato change.org, niente meno che il progettista della riqualificazione dello stesso piazzale del litorale di Levante, l'architetto Leoni, convinto che l'installazione somigli sempre più ad un corpo estraneo al contesto in cui è stato collocato. Sono stato perplesso fin dall'inizio della collocazione del casco per il semplice fatto che mi sembrava che questa piazza, per come è stata pensata, avrebbe avuto necessità di un'opera vera e non di un monumento a una persona viva, che penso sia l'unica in tutta Europa. Il casco potrebbe trovare una collocazione più logica in uno spazio come potrebbe essere il prato davanti al museo Tonino Benelli dove tra l'altro ci sono raccolte molto importanti ed epoca, mentre qui probabilmente l'attrazione potrebbe essere migliore con il posizionamento, il collocamento di una delle sculture che tra l'altro sono a disposizione dell'amministrazione comunale di Pesaro, quindi vangi, sguanci, colla, però questa è una scelta successiva. Per ora l'idea di spostare il casco mi è sembrata opportuna anche perché fin dall'inizio ho avuto molte, ma molte, ma molte richieste e esposizioni di perplessità nei confronti di questo oggetto. Non solo la rimozione del casco, per Leoni va implementato anche il verde del piazzale attraverso un'intensificazione delle piantumazioni e un incremento degli arbusti eliminando il poco estetico telo pacciamante. Concordo la scelta di mettere degli oleandri al dalberello in questa zona che peraltro hanno sofferto per la bora e quindi si sono sviluppati solo nella parte che è più protetta. Ci sono essenze arboree che sono più adatte forse al luogo. Suggerirei all'amministrazione di migliorare la situazione, anche se devo dire che oggi la lavanda è in pieno fiore ed è completamente piena di api che, come sapete, è un animale che è a rischio per colpa dell'inquinamento. La piazza è anche molto frequentata. So che l'associazione albergatori ha già previsto varie manifestazioni per l'estate 2024 e quindi direi che sono contento del risultato ottenuto. Certo è che avrei preferito che il casco andasse in un altro posto. Cambiare location al Maxi Casco non è a quanto pare un pensiero esclusivo di Leoni che sulla sua pagina Facebook renderizza il link della petizione di Change.org che ha già raccolto 200 firme digitali in due giorni. Se sarà necessario organizzeremo eventualmente una raccolta firme stabilendo dei punti dove poter far firmare le persone visto che mi stanno addirittura telefonando per sapere come fare.